Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Ciao a tutti, sono Matteo e sto frequentando il secondo anno del corso di laurea in infermieristica. Questo è un percorso professionale che vi permetterà di crescere anche a livello personale, una crescita continua. All'insubra voi non sarete solo matricoli, verrete seguiti da docenti altamente preparati e molto disponibili che vi seguiranno durante tutto il vostro percorso.